Ciao a tutti, siamo Minecraft e ne siamo qui oggi per presentarvi il gioco chiamato Stop Bullying. Iniziamo in una classe. Quando entriamo nell'atrio, vediamo che ci sono molti zombie, che sono i bulli. Adesso non ci picchiano perché siamo in creativa. Noi abbiamo questo scudo per difenderci da loro, come se fossero dei bulli. Per combatterli abbiamo bisogno di un adulto che sarebbe il preside, che è un golem. La porta si aprirà dopo un po' di tempo. Noi dobbiamo cercare nel frattempo un bottone di pietra che è nascosto in questa stanza. Quando l'abbiamo preso lo dobbiamo andare a mettere nel blocco di sabbia, che poi farà aprire una porta. Adesso siamo nel prossimo livello, in cui c'è un parkour, in cui ci sono scritte delle parole o stili, come ad esempio Sei brutto, fai schifo. Noi dobbiamo romperle. E quando le abbiamo rotte tutte, una porta si apre. e scendiamo una scalinata che ci fa arrivare in una zona aperta dove c'è un pulsante che ti dice che hai vinto e ci sono tanti fuochi d'artificio. La finalità del primo livello consiste nel difendersi da un bullo e in questo caso devi chiamare un adulto per difenderti. Invece, la finalità del secondo livello è tutto da un altro punto di vista. Infatti, il gioco è impostato da due punti di vista. E devi cancellare le due azioni cattive di quando sei un bullo in modo da non essere più un bullo. All'inizio il parkour è difficile perché la vita di un bullo non è facile. E più si va avanti, più è semplice perché non essendo un bullo la vita è più facile. Grazie per la visione e buona continuazione.